Non riuscirai a fermarmi. Era questo che volevi, non è vero? No! Ti rendi conto di cosa hai appena fatto? Non so e non mi importa. Gli ordini del mio cliente sono di distruggere la Umbrella. Dieci minuti all'impatto del mio. Hanno lanciato il missile. Io ora esco di scena. Addio, Jill Valentine. Avreste dovuto ascoltarmi al momento giusto. Jill! Sparagli! Ma colpirei anche te! Farlo! Devi farlo! Non c'è altro modo! Carlos! Ehi! Te l'ho detto che non puoi stare senza di me. Ci è mancato fuoco. Che ne facciamo? Perché lo hai fatto? Ogni cosa ha il suo prezzo. Persino ridurre il mondo in ceneri. Dimmi per chi l'ho. Te lo dirò se mi tirerai fuori di qui. Pagherò qualsiasi c'era. Sei una stupida. Sei una stupida! Se morirò non saprai mai la verità! Preferisco scoprirla da sola. Ehi! Tutto ok? G.S.A. Adesso è finita. Addio, racconsidio. Fu come se l'esplosione avesse spazzato via anche tutte le mie emozioni. Non era stato un virus a causare questa terribile prigenia. Una avvidità. Una avvidità umana. Promisi a me stessa che l'Umbrella avrebbe condiviso le sue ceneri con Raccoon City. Che l'avrei distrutta. Per sempre.